Ciao, sono Maria Cristina, ho 57 anni. Mi sono approcciata al mondo l'igenesi un po' per caso attraverso i social network e devo dire che in questa accademia ho trovato moltissima professionalità, moltissima competenza e moltissima serietà. Sto frequentando al momento il percorso delle 500 ore per massaggiatore olistico ovviamente iniziando con il percorso delle 200 ore ma sicuramente il percorso delle 500 va a completare tutta la preparazione base per cui consiglio vivamente a tutti questa accademia perché è un viaggio non solo verso gli altri ma soprattutto verso noi stessi per il raggiungimento di una maggiore consapevolezza, di un maggiore benessere totalizzante. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!